San Giovanni e Giulia Stabile. L'ora più buia. Addio a un passo. Cosa è emerso? Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, il cantante e la ballerina starebbero affrontando un periodo di forte crisi. Si fanno sempre più tambureggianti e insistenti le voci che vogliono San Giovanni e Giulia Stabile in profonda crisi. La coppia è sbocciata ad amici di Maria De Filippi. Un amore puro e spontaneo che ha avuto il sostegno di migliaia di fan. Qualcosa, però, pare essersi rotto di recente. Ad affermarlo è anche Alessandro Rosica. Esperto di gossip attivo su Instagram in qualità di, investigatore social. Nelle scorse ore Rosica ha avallato l'indiscrezione relativa al fatto che il legame sentimentale tra il cantante e la danzatrice s'attrebbe attraversando una burrasca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quel che si sa è che i due sono piuttosto distanti anche dal punto di vista geografico. Il cantante di base è a Milano mentre Giulia passa la maggior parte del tempo a Roma per via degli impegni professionali. Come è noto quest'anno è stata ruolata nel cast fisso sia di Tussi che Vales sia di Amici di Maria De Filippi. Due programmi in cui viene richiesta una presenza fissa nella capitale in quanto è a Roma che vengono registrati. C'è dell'altro. Di recente la stabile si è mostrata in diverse occasioni in compagnia di amici. Tra cui Sebastian, altra vecchia conoscenza del popolare talent show di canto e ballo. Il gossip ha ricamato un po' sulla vicenda. Al di là dei ricami, si sa che i due condividono un legame amichevole. Il punto è che di San Giovanni non c'è traccia. Per la coppia è, probabilmente, l'ora più buia. L'addio sarebbe a un passo.